Nessun stravolgimento dell'ultima ora nella nuova giunta provinciale in cui non entra nessun rappresentante dell'area post-comunista né dell'Italia dei Valori. Tre conferme e due novità nella squadra di governo di Maria Teresa Bassaporopat. Rieletta alla presidenza dell'ente è costretta a ridurre per legge gli assessori da 7 a 5. Quanto al nodo della rappresentanza dei partiti, la presidente risponde così. Io credo che tutti i partiti giustamente siano rappresentati dentro il consiglio al quale io delegherò funzioni importanti. Abbiamo inserito nello statuto al di là delle commissioni diciamo tradizionali anche la possibilità di attivare commissioni speciali. E la rappresentanza in qualche modo viene garantita in un ragionamento complessivo che si è fatto tra comune di Trieste, comune di Muggia e provincia. Gli argomenti della Poropat però non convincono l'Italia dei Valori, il cui segretario regionale De Lorenzi parla già di un mandato che parte in salita dopo l'esclusione dei dipietristi. Ma ritorniamo agli assessori. Riprendono il loro posto Mariella De Francesco, con le deleghe a bilancio, patrimonio, personale e la giunta gravosa dell'edilizia scolastica. Vittorio Zoglia assume quelle a pianificazione territoriale, ambiente, viabilità, trasporti e motorizzazione. Adelepino invece continuerà ad occuparsi di lavoro e sociale. Il nuovo vicepresidente sarà l'ex consigliere regionale del PD Igor Dolenz, che assume le deleghe a sviluppo economico e politiche per il Carso, politiche comunitarie, coordinamento enti territoriali, agricoltura e sport. Questo primo giorno di scuola mi sembra per adesso entusiasmante. Poi le deleghe, il ruolo è piuttosto pesante, da fare un po' tremare i polsi. Sì, credo però che la funzione della provincia debba essere valorizzata, visto che esiste. Dolenz sostituisce Walter Godina, trombato di lusso di questa tornata elettorale, come rappresentante della comunità slovena, mentre l'ex assessore muggesano Roberta Tarlao, assente alla presentazione di stamani per un guasto all'automobile, sarà il nuovo punto di riferimento per politiche giovanili, migrazione, volontariato, disabilità, pace e legalità. Spetta alla rappresentante dei cittadini il ruolo di collegamento tra l'amministrazione provinciale e i comuni minori e la palma della più giovane in una giunta con un'età media di oltre 58 anni. La Poropat, che mantiene le deleghe ad rapporti istituzionali, culture, università e ricerca, comunicazione e pari opportunità, ha poi parlato di alcune priorità, a partire dal problema dell'edilizia scolastica, per cui la Presidente chiederà un incontro con Tondo, insieme con il sindaco Cosolini, per affrontare insieme il problema delle scuole triestine. Grazie a tutti.